Willis, sei tu? Jason, ho trovato il tuo amico Keith Ramsey. L'ha comprato un killer che lavora per Hoyt. Di solito è al bar, nella baraccopoli. Come si chiama? Buck. Si chiama Buck ed è venuto per fo... Lasciarsi andare, lasciarsi andare. Chiama Buck ed è venuto per farlo. Sì, sì, sì. Sei Buck? Beh, non è il mio compleanno, ma tu sei il mio regalo Sto cercando il mio amico, Kit No, nada, non mi dice niente L'hai comprato da Hoyt Ah, lui Ha detto che si chiamava Tu sei fuori Va bene Allora, veniamo a sodo Tu devi essere Jason Brody Senti, voglio solo Kit Jason, Jason, Jason Non siamo mica dei selvaggi Siamo uomini d'affari, capitalisti responsabili Io ho qualcosa che tu vuoi, giusto? È un prodotto e tu hai qualcosa per me E che cazzo sarebbe? Oh, che caratterino, Jess Stai attento Se mi uccidi non lo avrai mai indietro Trovami questo Se ci riesci, siamo belli e pari E Kit viene via con te Portami ciò che è andato per tutto Ho... ho già visto questo pugnale Pugnale? Dici un pugnale? Questo non è un pugnale È arte C'è più storia in questo che nelle vostre chiappe messe assieme Questo è il mio prezzo Capito? Dove lo trovo? Un cercatore di tesori sapeva dov'era Ma Buzz si è preso la sua barca La sua ricerca su un tesoro cinese È la sua truppa Sai cosa ha trovato? Il pugnale? No, non il pugnale Ma la sua posizione Vuoi riavere Kit? Sali in barca e scopri dove è l'artefatto Prima che se lo fotta qualcuno E ora via Fuori dai coglioni Sali in barca e scopri dove è l'artefatto Sali in barca Sali in barca e scopri dove è un pugno Sali in barca e scopri dove è l'artefatto Dove essere un pugno Il pugno Sono un pugno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, avanti. Mi serve la ricerca. Per quanto dobbiamo restare? Finché non riescono a trovare il bugiale con i dati di quel computer. Mi serve quel computer. Quanti pirati ci sono a porto? Per quanto dobbiamo restare? 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 Eccola. Quella bussola sembra importante. Forse mi porterà al pugnale. Muoviti, cazzo! Mi prendi in giro? Per quanto dobbiamo restare? No, no, no. Non terrà a lungo. Non terrà a lungo. Non terrà a lungo. Non terrà a lungo. Jason, spezzerai del tutto il cuore a Kit. Mi sembrava teso l'ultima volta. Perché me lo dici? Non lo so. Pur parli, caro, pur parli. Per caso hai preso la bussola? Ottimo, molto bene. La ricerca dice, segui la bussola. Grazie, infinito. Quando vuoi. Ora, se riesci a badare a te stesso, io vado da Kit. Ok? Ciao. Troppo caldo. Qualcuno mi spari, per favore. Grazie. 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 Arriviamo in 30 secondi! Stiamo arrivando da sud! Stiamo arrivando! Stiamo! Sparare fresciamolo! Stiamo! Arriviamo in trenta secondi. Stiamo arrivando da sud. 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 Stiamo arrivando da sud.